A buonanatata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89 in questa nuova puntata di Ghostbusters allora prima di tutto prima di tutto io direi di andarci a potenziare e se è possibile mi vorrei potenziare la trappola vediamo un po' se ci abbiamo la trappola quella nuova eh la trappola quella nuova trappola veloce prendiamola assolutamente sì prendiamo ci abbiamo altri 14.000 ci abbiamo la trappola muoni però non ce l'abbiamo i soldini non ce l'abbiamo quindi a questo punto io mi potenzierei Ok ancora questo eh super carica tardi a bosoni questo già l'abbiamo preso vabbè prendiamoci questa qua e olè abbiamo preso ok andiamo avanti vediamo un po' siamo di momento dentro un portale dei fantasmi Esatto appunto Godzer il Godzeriano andiamo avanti non so quanto ci manca a finire il gioco secondo me siamo oltre i Melma nera ma attenzione Oh hai tre quarti secondo me Ah ok ci abbiamo la melma quindi Vai buttiamo un po' di melma ovunque Vai così depuriamo questa Questa schifezza Andiamo 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 Olè Ok quindi Andiamo a questo va bene Col cazzo E te pareva Eh ma no no sono rimasto da solo perché Ok va bene ma io sempre da solo rimango ma non ho capito Gli altri sono stati nel portale io no va bene Questa è un'ingiustizia Questa è un'ingiustizia Raffreddati 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 Vai così Potrei anche utilizzare il fucile a pompa Cioè nel senso l'abilità quella la Usiamola va Olè mamma mia Vieni qua Vieni qua Cidete Ok prendiamo Rimettiamo quell'altra Rimettiamo quell'altra Rimettiamo quell'altra Vai così Ok dai 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 Togliete Bastardo Ah 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 Sono un fottuto acchiappafantasmi Va bene quindi Provo ad entrare dentro a qualche altro coso Va bene mi ispira questo Voglio entrare qua dentro Entriamo Eh no Direi che questo non funziona Quindi Andiamo su uno di questi qua Scusate un po' di tosse Ci sta ogni tanto Quindi andiamo a questo Ecco Questo già cambia qualcosa Ok mi sa che si è materializzato un altro Eh vabbè Dai ma non posso farcela tutto da solo Ragazzi stiamo impazzendo qui Questi sono molto più grossi di me Ok mi devo mettere Ok mettiamoci questo Bastardo Vieni qua Vieni qua Sì ma tanto è uguale Aio Aio Devo fare attenzionissima Devo fare molto attenzione Via 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 Ah che male Missione fallita Lo sapevo io Eh sono troppo difficile Che fin... Sentire i caricamenti Ok me ne vado qua Il bastardo spona lì Quindi se il bastardo spona lì Io mi devo sbrigare Perché non c'ho Molto tempo per ucciderlo Esatto Quindi ricarica 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 Ok Vai Spara così No Togliti Togliti Bastardo Vieni qua Vai manca poco Manca poco Dai oddio Sto da torta il portale Toglite Via Olè L'ho superato L'ho superato L'ho superato Toglite Ok Non me se toglie Togliti Olè Vaffa Brega De ste lampade Del cavolo Che c'è in faccia Andiamo avanti Così sull'altro portale Andiamo Perché rimango Sempre da solo Cosa Oh mio Dio Salve Tutto a posto Sembra un posto Adatto Per il laccio Melma Per tendere Il laccio Melma Mira e lancia Il primo punto Di ancoraggio Poi il secondo Il laccio Melma Si tenderà Che spettacolo È bellissimo La carica Ectoplasmatica Dei laccio È di breve durata Dopo un po' Il laccio Diventa fragile E si rompe Ok Con qualsiasi Altro equipaggiamento Per distruggerlo Olè Dai Che ce la facciamo Beh È bellissimo Nuove funzioni È spettacolare È bellissimo È bellissimo Dobbiamo andare a trovare Ray O Igor Oddio Che cosa succede Per ruotare la parete Ah ok Va bene Quindi io faccio così Olè Gira Gira Vai E io lo sto facendo Vai Gira Gira Perfetto Dobbiamo andare qui Sì esattamente Ray Penso che questi eventi Siano correlati Tra loro Sì La mostra gozeliana L'immane impulso energetico L'hotel Sedgwick Il ritorno dell'uomo Della pubblicità Dei marshmallow Sì Ciao Sì Anche questo Tutto porta A un unico punto Di origine Sì Ilissa Ilissa E che cazzo è Pensi che c'entri In qualche modo Certo Anche se forse Non intenzionalmente Grazie eh Ma avete fatto rimanere Nuovamente da solo Sei ancora lì Sta attento Gli specchi non sono Ciò che sembrano Che significa Aio Vaffanculo Andiamo via Andiamo via Andiamo via Ma chi se frega Porta apriti Porta apriti Immediatamente No Perché lancio le trappole No 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 Ok Oddio che è uno stregone Ma Vaffanfrega Ma chi sei Equipaggio Rivelatore Ok Ok Seguaci di Non so che cosa Vieni qua Bastardo Ti rompo tutti gli specchi Voglio vedere poi come rigeneri Eh vieni qua Dai che tanto Fa casino Sono capace Tacci le te Vieni Marrano Marrano Dove sei Ok L'ho preso Ok 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 L'ho preso Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Bastardo Dai con la trappola Dai che c'ho pure Con la trappola potenziata Su Vieni qua Vai con la trappola potenziata Vai 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 Oddio Ti fallo E uno l'abbiamo puntato giù Ecco Mo' che succede Ah ok Adesso siamo ritornati alla normalità Quindi la porta dovrebbe essere aperta Andiamo a vedere Come equipaggia rivelatore Andiamo avanti Andiamo 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 Ok c'è qualcosa qui Oddio, vedo la luce Entriamo nel portale Ok, bellissimo Sto livello è pazzesco Oh, i libri Oh, i libri, oh, i libri, oh, i libri Oh, i libri, bastardi, bastardi, bastardissimi Venite qua Oh, porca puttana Quanti cacchio so Sono davvero troppi Andiamo, andiamo, mamma mia, mamma mia Ok, 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 con calma Dio, l'ho sempre detto che i libri a me non mi piacevano Che dolore Venite qua Bastardi che non siete altro Venite, venite Oh, mi sa che l'ho fatti tutti fuori Andiamo avanti Andiamo, 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 andiamo Andiamo, recluta Che sarei io Entriamo qua Ok Ok, qua ci stanno libri che non si fanno niente Quello dove va? Ok, andiamo avanti Che culo Dobbiamo uscire di qui No, ok, andiamocene per di qua Mio dio, quanti libri Va bene, andiamocene per di qua Andiamo, 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 andiamo Ok Sono Apparso da un'altra parte Dove ci sono Dei mambruchi Oh, no È pieno Hai visto qualcosa di spaventoso, Igor? No, eh Scala Decide di scala Ok, sì, ma voi state vedendo quanta gente c'ho io qui Cioè, voi non capite quanta gente c'ho io qui Ok, per fortuna che sono più deboli adesso Andiamo avanti Andiamo, andiamo, andiamo Mio dio, è pieno Va bene È pieno, ma noi non ci scoraggiamo Noi non ci scoraggiamo Andiamo avanti così Aio, che male Siamo ovunque voi siate Va bene, non ci sono problemi Tanto io vi vedo sotto Quindi andiamo per di qua Ok Mio dio, quanti sono Sono leggermente tantini Vai Ok, no, 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 no Via, 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 via Non ti voglio vedere Ok Manda un segnale Così possiamo seguirti Che segnale? Non so se funzionerà L'ultimo portale che ho varcato Era in cima a una lunga scalinata Ok Lunga scalinata Equiguaggiamo il rivelatore Che cambia? Non credo che mi cambi nulla Ok, andiamoce per di qua Andiamo, andiamo, andiamo Per di qua Qua io vedo solamente lampadine E non vedo nient'altro Eh, adesso vedo Sono uscita anch'io Ehi, campione Ti aspettiamo qui Eh Cerca la lunga scalinata Il portale di uscita È in cima alla scala Eccola Eccola L'ho trovata, l'ho trovata L'ho trovata Sì, ma qua mi dici di equipaggiare Il rivelatore Ma non funziona ma Sti cavoli Andiamo, 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 andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, lunga scalinata Oddio, libri, 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 libri Non vogliamo restare intrappolati qui Andiamo, andiamo No, 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 libri, libri Oh Che male Ma porca puttana Quanti erano Ma non è possibile Ok, ci risiamo Sono rossi Quindi sono pure incazzati sto giro Non fermarti, amico Non vogliamo restare intrappolati qui No, state tranquilli Ora ci provo Ora ci provo Mamma mia, quanti Guardate quanti, guardate E grazie al cavolo Che prima ce ne sono morto Guardate quanti cavolo so Oh mio Dio No, sono troppi Sono troppissimi C'è, ma è una cosa incredibile Ok Piano piano li sto facendo un po' a tutti Andiamo avanti Andiamo avanti così Aio Mio Dio Mi fanno male da morire Andiamo avanti Mio Dio Quanti sono No, che cosa succede No, 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 no Recrota Ho avuto dei problemi A raggiungere il portale Usa il lancio melma Per attirarlo verso di te Il portale Verso di me Lancio melma Va bene Allora Con calma E facciamo tutto Allora Lancio melma Così E così No Allora facciamo Così E così Olle Signori Sembrede che funziona Aspettate Questi che micchia Guardano Che micchia Vogliono questi Mamma mia Ma quanti sono Ma quanti cavolo sono Ok Con calma Con calma Non ci facciamo Prendere dal panico Non ci facciamo Prendere dal panico Mio Dio Quanti sono Con calma No Tu devi venire qua Vieni qui Dove vuoi andare Tu Ok Perfetto Andiamo Andiamo Ok No No Dove vai Eh Ci provo Giuro che ci provo Ma la cosa si sta facendo Sempre più complicata Allora tu vieni qua Vieni qua Dai muoviti Olle E andiamocene E andiamocene Sì ma fatemi salire Nel traportale Perfetto Sentite che canzoni Regà Troppo bello Ok L'ambientino è proprio Di mio gusto Ma speravo che il portale Ci avrebbe riportato Alla biblioteca In effetti Siamo tornati Alla biblioteca La membrana dimensionale Deve essere molto sottile Qui Che stanno trattenendo Il collezionista Già Azetlor vuole arricchire La sua collezione E probabilmente Non vuole che ci portiamo via Il codice gozeriano Ah sì E cosa ci può fare Un topo di biblioteca Squilibrata Non lo dire Da vivo ho ucciso Ilianor Twitty Per questo libro E altre persone Per coprire il delitto Eh collezionista Abbiamo il tuo libro Dai non gli di così Ah è dietro di me vero Eh sì Hai attirato la sua attenzione Oh no Mio dio che casino Ok Che cos'è tutta questa roba Va bene Va bene E praticamente È piccolissimo Sconfiggi Al Aztor Va bene Annaffiamolo Aio Ammazza che botta Porco su Che botta Va bene Vieni qua Vieni qua Bastardo che non sei altro Vieni qua Ti annaffio Vieni qua Che ti annaffio tutto Vieni Mio dio Ma non abbasta così Non è sufficiente Aiutatemi Dobbiamo rimuovere la melmaniera dalla maschera Ah Non sto utilizzando Promesso Lo sto utilizzando Vieni qua Ma non funziona Ok Ray medico Eccomi 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 Ti ho medicato Ti ho medicato Vieni qua Il suo scudo è troppo forte Gira la maschera Ripunisci la melmaniera Ok L'ho ripunita Ok Questo boss mi pare A quanto difficiloso Sembra vulnerabile Ok Arrivo Arrivo Ray Arrivo Ray Arrivo Arrivo Egon Egon Arrivo Io ho sempre chiamato Igor Ma perché Ma perché non gli facciamo nulla Ok Vai Vai così L'ho preso 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 Che male Va bene Va bene Ok Ray Ray Oh mio dio Ray Come ti aiuto Aspetta Ray Provate ad aiutarti Aio Mazza che pezza No portale no Dentro il portale no Oh mio dio Ray Non so come aiutarti Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Aiutalo 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 Vieni qua Bastardo Vieni qua Un boss Terrificante Oh mio dio Me li fa volare tutti Niente panico Scappa Devi scappare Recluda Ok Ray medico La colpisci E l'ho capito Che devo colpire Dove luccica L'ho capito Perfettamente Ma a colpirlo Quello è il problema Mio dio Me li stende tutti Me li sta stendendo tutti Andiamo 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 Ok Perfetto 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 Vieni qua Bastardo Che non sei altro Vieni Vieni qua No Sei troppo forte Sei vero Oh E ho capito Ma ora che faccio Gli lancio pure le mutande Ci sto provando Ok Ok Ma gli manca pochissimo Gli manca pochissimo Gli manca davvero poco Ok Ray medico A Ray gli serve un medico Aiutalo Aiutalo Ok Gli manca tipo pochissimo Gli manca pochissimo Gli manca pochissimo Vai 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 che gli manca pochissimo Vai così E ho capito io Olè Dobbiamo uscire da qui Che un nuovo portale qua dietro Deve essere l'uscita Andiamo Andiamo Mamma mia Ragazzi dove siete Arriviamo Porca miseria che puntata Ma dove eravate finiti Sono andato su e giù per la biblioteca Chiamando o cercandovi Spariti In una versione alternativa della biblioteca Abbiamo superato un portale interdimensionale E qui abbiamo affrontato un mostro di 12 metri Fatto di preziosi pezzi antichi Per rubare un libro magico Ah beh Si spiega tutto Se risuccede scrivetemelo Ora che succede Ray e questo ti dice qualcosa Ma si Non si era la prima volta che siamo passati Che cos'è? Non ne ho idea Ma qualunque cosa sia penso che l'abbiamo spento Aha Quindi ce ne stanno altri due Pensate ciò che penso io? Una bella margherita a doppio mozzarella Magari dopo Ora devo tornare al laboratorio Per dare un'occhiata a questo codice E analizzare i dati che abbiamo raccolto Ci serviranno quando andremo al museo Un trancio al volo? Per la recluta? Si 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 Un pezzo di margherita Mi farebbe piacere Va bene Mio dio che spettacolo E' bellissimo E' bellissimo Ok ragazzi Io direi che l'appuntamento di oggi Può finire qui Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su Di commentare Di condividere Al prossimo appuntamento Con il vostro ciccio Per 89 Ciao Ciao mio dio è bellissima è proprio bella bellissima